benvenuti in questa guida top 7 giacche in pelle uomo di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo tech speed giacca da moto in questa giacca da moto in pelle da uomo è un must per qualsiasi motociclista offre una protezione c e armor an 1621 1 di alta qualità e un design moderno perfetto per il turismo o il touring la giacca è resistente all'acqua e al vento ed è adatta sia per l'inverno che per l'estate punteggio 76 punti info in sesta posizione al sesto posto troviamo shima winchester 2.0 giacca moto questa giacca in pelle di scima winchester 2.0 è un must per chi ama la guida in moto la pelle di qualità superiore e le protezioni c e per schiena spalle e gomiti offrono una protezione eccellente le doppie cuciture rinforzate assicurano che sia resistente e durevole punteggio 82 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo belstaff giacca v racer 2.0 in questa giacca in pelle belstaff è un must have per gli amanti dello stile la sua silhouette classica e il design moderno la rendono un capo di abbigliamento versatile che può essere indossato sia casualmente che con un look più formale la pelle di qualità superiore offre comfort e protezione dalle intemperie punteggio 80 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare redbridge giacca in vera pelle questa giacca in vera pelle da uomo redbridge è un capo di qualità eccellente il design vintage e lo stile scamosciato sono molto belli e la vestibilità è perfetta la pelle è morbida al tatto e resistente all'usura un ottimo acquisto per chi cerca una giacca di qualità punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo redbridge giacca in pelle sintetica questa giacca in pelle sintetica da uomo è un must per chi ama lo stile biker la finta pelle è di ottima qualità e il taglio casual vintage è perfetto per un look alla moda ottimo rapporto qualità prezzo consigliato punteggio 86 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo redbridge giacca in similpelle da questa giacca in similpelle da uomo è un must per chi ama lo stile casual il design moderno e la finta pelle di qualità offrono comfort e stile il cappuccio regolabile e le tasche multiple rendono questa giacca un capo indispensabile per ogni guardaroba punteggio 93 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica shot nyc lc 5331 x giacca questa giacca in pelle shot nyc è un must per ogni guardaroba maschile la pelle di qualità superiore e la fodera in cotone offrono comfort e calore mentre le cuciture rinforzate assicurano resistenza e durata un capo classico che non passerà mai di moda punteggio 99 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale